Musica Poi che arriva Sasha Asfalos, figlio d'arte con Zian Zitten, Scott and Fabian, anche per lui, come altri equipaggi che ce l'hanno pregiato, bianchi e il team torino eseguati dalla macchina, benvenuto Sasha, grazie mille, benissimo rally del Ticino, una gara importante per il campionato Svizzero, qual'è la tua strategia? È una gara molto importante perché guadaglia a tanti punti, anche in altri gare, bisogna fare una cosa intelligente perché ci sono qui tante persone che vanno veloce, che vanno punti, bisogna fare un ruolo più intelligente e vedere come siamo dopo. Grazie mille, grazie mille a Sasha Asfalos e ha detto una cosa da non sottovalutare perché guai a pensare che magari equipaggio del genere che concorre per il campionato assoluto Svizzero, possa partire, ma più non posso, però è proprio perché c'è un campionato in palco, non sono lì. Grazie mille a tutti. Bellissima Grazie mille a tutti. Grazie 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 a tutti.